buongiorno ad obiettivo news oggi 21 aprile sant'anselmo d'aosta il 21 aprile di ogni anno in tutto il mondo si celebra la giornata mondiale della migrazione dei pesci questa giornata è dedicata a sensibilizzare sull'importanza dei fiumi dei pesci migratori per l'ecosistema acquatico la giornata mondiale della migrazione dei pesci è stata creata per aumentare la consapevolezza sulle migrazioni dei pesci e promuovere la protezione degli habitat fluviali i pesci migratori sono specie che compiono lunghi viaggi attraverso fiumi e oceani per raggiungere le aree di riproduzione o di alimentazione oggi è anche la giornata nazionale dei grissini e la giornata internazionale del tè tra i nati oggi annoveriamo gino strada 1948 ed anthony queen 1915 tra gli scomparsi ricordiamo prince 2016 elenora duse 1924 e mark twain 1910